Sì, sono il più vecchio, si vede, ho 28 anni, però è un gruppo molto giovane, quindi siamo contenti di questo, il punto forte sarà questo, il nostro atletismo, di cercare di valere queste cose. Le prime impressioni per ora è che sono dei ragazzi appena usciti dai college e dobbiamo fare ancora un gruppo, dobbiamo fare il gruppo soprattutto. E niente, queste partite servono a quello soprattutto, a conoscerci personalmente e a fare il gruppo. Diciamo che giudicare la prima partita dopo una settimana di allenamento è un po' difficile, però io secondo me ho visto delle cose molto positive, anche l'attitudine che si punta a quello, soprattutto in queste prime partite, perché uno ha le gambe pesanti, a volte, non so se avete visto la partita, abbiamo fatto tanti passi, i ragazzi nuovi, quindi si devono vittorio al gioco europeo, ma per ora ho visto delle cose positive e su cui ci possiamo lavorare. Mi sento un po' vecchio sinceramente, però come ti ho detto è un gruppo giovane, è la prima volta che faccio il capitano e quindi ho questo compito e spero di essere all'altezza, non l'ho mai fatto, quindi ce la metterò tutta. Sono dei ragazzi, io penso, tranquilli e quindi si può parlare tranquilli, così anche loro mi possono aiutare un po' in questo compito. Guarda, io penso non al top per la prima del campionato, ma essere pronti per la prima campionato. Poi ci saranno delle partite che dovremo vincere e lì spero di essere al top, quindi teniamo duro. I tifosi, quello che le dico tutti gli anni, che metteremo tutto l'impegno per raggiungere gli obiettivi e che quest'anno ci divertiremo ancora di più. Grazie a tutti.